Un luogo bello è la costa di Palermo, Capogallo. Come mai? Perché è un posto bellissimo, con un tramonto meraviglioso, c'è un faro, io adoro i fari, quindi c'è un faro bellissimo, cioè volendo una camminata a piedi non indifferente, con degli scorci di scogliere e di mare bellissimi, e poi sarebbe banale, però è bello tutto il litorale, è bello tutto il mare, quindi...